ah finalmente un po di montagna è stata una bella faticata venire su perché ho un bello zaino anche oggi questo è un posto molto 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 frequentato lungo il sentiero ho incontrato tantissime persone e questo mi ha ricordato subito perché non frequento questo tipo di posti insomma e preferisco zone più isolate la mia idea adesso era quella di portare lo zaino in un posto al sicuro nasconderlo diciamo e girare fare un po un giro andare o da questo lato a questo lato di questa montagna questo versante o da quest'altro bene ho trovato un posto dove nascondere lo zaino e adesso lo metterò qua ho scelto questo posto perché è così in modo da avere anche la legna essere al riparo perché passerò la notte qui e quindi in vista di appunto di fare un fuoco di creare un minimo un campo base mi sembra che questo è un posto abbastanza adatto dai è un pochino vicino al sentiero cioè dopo il sentiero con la gente che passerà qui io ovviamente la tenda la monterò quando sarà buio prendo quello che tutto lo corrente che mi serve per per fare un giro insomma testare su e poi nascondo lo zaino ci metto sopra la rete mimetica in modo che così magari a una prima occhiata chi passa non lo vede non lo vede quindi Grazie a tutti. 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 Sono molto lontani e sono nella valle praticamente da dove sono venuto. Grazie a tutti. 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 Sono arrivato. Dentro del bosco è completamente buio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e... Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti.